E' accaduto ieri a Dalbenga dove Mahit Sufyan, 21enne di origine marocchina ma residente a Villanova Dalbenga, ha sottratto la borsetta contenente due smartphone e pochi contanti ad una giovane brasiliana alla stazione in attesa del treno. In fuga dopo lo scippo verso il centro città, il giovane, già noto per precedenti reati, è stato arrestato dai carabinieri grazie soprattutto alla pronta reazione di cittadini e commercianti che lo hanno acciuffato e consegnato alle forze dell'ordine. Il processo celebrato per direttissima si è concluso col patteggiamento della pena due mesi e venti giorni di reclusione con la condizionale oltre 80 euro di multa. Il giovane marocchino tornato in libertà era stato denunciato l'anno scorso assieme a suoi connazionali dalla polizia ferroviaria per spaccio di stupefacenti.